bella a tutti ragazzi sono jtsfr e oggi vi porto questa mob in team deathmatch deathmatch a squadre è un record italiano ragazzi perché ho tirato questa mob in 90 secondi in solo non avevo supporto niente è uscita proprio una mob così totalmente a caso non me l'aspettavo è stata molto bella perché molto rasciata e ragazzi per questo video voglio esagerare vi chiedo 650 like e inoltre vi chiedo appunto se qualcuno di voi ha l'xbox one magari interessa di aggiungermi perché io in questi giorni in pratica non ho neanche le cuffie per giocare e quindi mi farebbe piacere appunto fare dei gruppi così perché sto giocando sempre in solo no e quindi volevo chiedere ragazzi se qualcuno magari magari vuole che l'xbox one qualche ragazzo favorato per fare gruppo mi aggiunga il video sta purtroppo già finendo la mob è molto veloce spero vi sia piaciuta ragazzi vi ricordo che il mio nick su xbox one è feroci con la v quindi chi mi volesse aggiungere aggiunga pure perché appunto come ho già detto sto giocando solo in questi giorni e niente ragazzi video ha finito in pratica passate mi raccomando passate sul canale sul mio canale iscrivetevi passate la pagina facebook video per oggi è finito qua spero a tutti ragazzi vediamo alla prossima non ti piace il gtf ti ammazzati ti gasparati quando arrivo devi farmi passare